Tante le novità in questo nuovo regolamento. Iniziamo subito da quella, così ci togliamo il dente, più discussa, ovvero il criterio nonni. La minoranza aveva ovviamente chiesto che venisse eliminato in toto, ma insomma voi siete andati avanti e lo avete approvato proprio con questo nuovo criterio. Ma quali sono i cambiamenti? Allora, il cambiamento più significativo a mio avviso è l'innalzamento della soglia ISEE da 10.000 a 35.000 euro per dare a più famiglie la possibilità di manifestare non dico una criticità economica, ma una situazione economica non necessariamente floridissima. Il secondo criterio al quale sono la più affezionata è quello che è un regolamento assolutamente inclusivo, quindi dà alla disabilità un ruolo importante nella valutazione di una condizione familiare, non solo per il bambino e la bambina, che era già così, ma soprattutto per i genitori e per la rete familiare, tra cui appunto anche la condizione dei nonni e anche di coloro i quali nonni si possono prendere cura, una zia in condizioni di disagio o qualche altra situazione. L'altra parte fondamentale è una focalizzazione molto piena del mondo del lavoro, con tutte le possibilità, con tutte le marginalità che si possono determinare, con tutte le particolarità che si possono evidenziare, in quel concetto di conciliazione massimamente inteso, quindi un regolamento che cerca di fotografare la realtà lavorativa in tutta la sua molteplicità. E poi, in fondo, marginalmente mi verrebbe da dire, anche la questione nonni. Dico marginale perché da Reggio Emilia a Pistoia, da Lucca a Prato c'è, quindi ho trovato che fosse una manifestazione un po' strumentale, che però effettivamente ha fatto mettere un punto, cioè a questo punto si capisce chi considera i nonni parte della famiglia a di là della nagrafe e chi invece li considera perché non concorrono all'ISE non parte della famiglia. Questa sì è una posizione politica. Ecco, cosa cambia rispetto agli emendamenti? Ne avete discussi veramente un numero importante. Gli emendamenti alla fine approvati sono stati 16 da parte dell'opposizione, di cui due mi pare, dice il Guarezzo, tra l'altro uno molto correttivo in senso positivo perché proprio nel capitolo nonni individua il nonno o la nonna che è in RSA e quindi in quel caso è evidente che il carico di cura non lo porta perché è curato in un altro luogo. E un altro, sempre dice il Guarezzo, sul punteggio da considerare innalzato per i genitori che fanno corsi di formazione. Lo ritengo molto utile perché, insomma, essere più adeguati nel lavoro, più preparati, studiare di più è sempre un contributo importante. Dopodiché c'è stata una serie di emendamenti, 16 vi sembra, o 14 del Partito Democratico, che hanno preso in esame invece alcuni punti, se vogliamo, di dettaglio però significativi rispetto al ruolo del coordinamento pedagogico che peraltro c'era, che anzi trova una sua sostanziale rafforzamento, ma che con queste a volte anche parole, che però portano con sé contenuto, riescono ad andare incontro migliormente a quelle che sono le nostre prerogative. Quindi non c'era chiusura, io questo l'ho detto fin dall'inizio, io faccio politica, il dato politico lo stabilisce chi governa. Dentro questo dato tutto ciò che arriva per migliorare non vedo perché no. A questo punto entra in funzione? A questo punto entra in funzione velocissimamente, perché io ieri ho poi opposto anche la immediata eseguibilità, che è stata approvata dalla maggioranza, 18 a 11, e quindi ora tutti i percorsi sono accelerati. Questa mia fretta, tra virgolette, era dovuta a un eccesso di prudenza perché volendo ovviamente uscire col bando presto, essendo nuovo, quindi avendo anche delle necessarie bisogni di interloquire con la città, c'è poi il tema del nido gratis di Regione Toscana, quindi prima arriviamo, prima facciamo la gradatoria, prima le famiglie possono avere il loro posto in gradatoria e avere poi anche l'opportunità che Regione Toscana dà e che noi abbiamo assolutamente e convintamente accolto. Grazie.